Il mondo è fatto da tutti i colori, quindi colori brillantissimi, colori che attirano lo sguardo, che rappresentano l'amore, la gioia di vivere, è quella che lui ha e che trasmette a tutti. Sono i colori della speranza quelli scelti dall'artista retina Andreina Carpenito per ritrarre il volto di Papa Francesco in un mosaico del tutto speciale. L'opera, un pannello 40x45, è stata infatti consegnata sabato 16 gennaio in udienza presso la Sala Nervi del Vaticano nelle mani del Pontefice, a commissionare il lavoro per celebrare l'anno giubilare della misericordia, il Movimento Cristiano Lavoratori. Ho cercato di interpretarlo come sempre in maniera molto semplice, anche perché io sono una simbolica, e di utilizzare il colore per rappresentare le varie sfaccettature di questo grande personaggio, che fa parte del nostro popolo. Alla fine è un popolo mondiale, perché Papa Francesco alla fine realizza e sintetizza con la sua dolcezza, e questo descrivere la sua fragilità è in una visione molto più umana di quanto noi possiamo immaginare. L'opera raffigura il volto di Papa Francesco, che amorevolmente stringe a sé un nonato. Alle spalle la figura religiosa, emblema della città di Arezzo, la Madonna del Conforto. Era giusto che anche Papa Francesco, visto che ogni giorno lui chiede una preghiera da parte nostra nei suoi confronti, venga ulteriormente protetto da quella che è la nostra santa. Indicatore può definirsi la capitale del mosaico grazie al lavoro che Andrina Carpenito ha svolto nel corso degli anni presso la Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore, con l'intento di realizzare il mosaico più grande del mondo. E forse un giorno ad inserire una delle migliaia di tessere che compongono il mosaico potrebbe essere proprio Papa Francesco. Io spero che attraverso la lettera che ho scritto a Papa Francesco, che lui accolga la mia richiesta e quindi di riuscire a essere accolti da lui, come sono accolta io, dalle tante persone che sono venute fino ad oggi ad aiutarmi, in un'udienza privata. Spero che Papa Francesco accolga questa piccola comunità che alla fine fa parte del nostro territorio.